benvenuti a questa edizione speciale di Mappamundi ecco vedete Orietta Moscatelli ciao Orietta. Buonasera buonasera a tutti ciao. La nostra esperta di Russia a Limes e alla scuola di Limes ma insomma ormai la conoscete. Allora Orietta io comincerei subito per mostrare eh appunto la copertina di Limes e questo volume a cui hai ampiamente collaborato anzi sei stata una delle protagoniste la fine della pace che ricordo la trovate in edicola, libreria e anche online se vi abbonate l'abbonamento digitale approfittate anche dell'offerta a cinquanta euro invece di cento per un anno leggete tutti i volumi di Limes anche gli arretrati e tutti gli articoli del sito a cui sempre vi rimando e benissimo aggiornamento sulla guerra qui vedete appunto la carta di Laura Canali tratta da questo volume sull'invasione russa eh cerchiata a Mariupol dove ormai la resistenza ucraina è arrivata agli sgoccioli e questo consentirebbe appunto di unire la Crimea al Donbass ma la sul campo forse la notizia più importante è mh l'attacco subito dall'incrociatore russo Moskva proprio Moskva davanti a Odessa eh sarebbe affondato secondo gli ucraini secondo i russi sarebbe solo danneggiato a causa di un incendio ma è probabile se è stato colpito da un missile gli ucraini dicono un missile di produzione eh locale ma è probabile che sia invece uno delle nuove armi che fornite dalla dal Regno Unito in particolare nella nella lista c'erano anche dei missili antinave moderni ricordiamo l'incrociatore Moskva è un diciamo risale alla guerra fredda ma è comunque un'unità molto grande e molto importante della flotta russa questo renderebbe eh più difficile un'operazione di sbarco anfibia se i russi l'hanno mai diciamo programmata su Odessa quindi avrebbe anche un impatto decisivo sulla guerra guerra che però vede il quadrante sicuramente del del Donbass eh in primo piano dove appunto poi vedremo anche con una trasmissione anzi di annuncio specifica sul Donbass eh ne parleremo eh in abbondanza ma per tornare a te Orietta allora abbiamo visto sul campo come è cambiata la guerra dalla parte russa siamo entrati in questa seconda fase ma ci sono novità sia sul fronte interno che su quello esterno. Sì ci sono tante novità diciamo innanzitutto eh è importante significativo e anche un po' illuminante visto che noi tendiamo a vedere questa guerra ipermediatizzata ma raccontata con le immagini che arrivano dai inviati occidentali e insomma la narrativa fondamentalmente eh abbastanza filtrata dall' l'informazione ucraina ehm la Russia ha completamente ovvio siamo in tempo di guerra la propaganda funziona da entrambe le parti ma ha completamente un'altra narrativa ma la cosa adesso che è molto interessante è vedere come cambia il discorso sulla guerra come viene raccontata questa guerra innanzitutto l'operazione militare speciale come viene ancora descritta e denominata eh per il per l'opinione pubblica russa in tutto e per tutto nella sostanza è diventata una guerra anche per i russi è entrata nelle case dei russi perché vengono mostrate in televisione anche delle immagini molto dure dei feriti dei mutilati che sono che sono riduci dal fronte ricoverati negli ospedali quindi la guerra comincia a mostrare il suo lato più duro è come ehm una forma di addestramento del del pubblico russo dell'opinione pubblica russa ad un conflitto che chiaramente chiaramente nella sua prospettiva si allunga e soprattutto diventa un conflitto a scenario aperto questo noi lo lo sappiamo adesso lo sanno anche i russi e non è una cosa da poco non è una cosa da poco perché questo significa che innanzitutto è definitivamente tramontato questo logico il la prospettiva lo scenario di una guerra veloce ma che non vengono più esclusi scenari di un ulteriore allargamento anche dopo quella battaglia del Donbass che sarà decisiva che è appena annunciato e che non a caso comunque si allunga no c'è quasi un'attesa di di giorno in giorno e non si concretizza perché la Russia non si può permettere ovviamente di di perdere questo confronto che sarà uno scontro completamente diverso sarà proprio diretto uno scontro diretto con l'esercito e poi ehm Putin parla pubblicamente Vladimir Putin presidente parla pubblicamente di questa guerra dicendo sarà condotta con calma quindi eh con tempi allungati e probabilmente con episodi sovrapposti insomma si mette chiaramente in conto un allargamento del conflitto possibile anche se non auspicabile ovviamente e ovviamente la Russia presenta come diciamo è sappiamo che è una guerra a più livelli no c'è questo il livello della guerra sul campo ma c'è il livello di una guerra tra Stati Uniti e Russia no? Nei Stati Uniti che utilizzano ovviamente l'Ucraina eh come proxy quindi una guerra di prossimità appunto con eh la Russia e eh i media russi spingono no mi pare proprio su questo cioè il eh la volontà di raffigurare anche per compattare il fronte interno questa guerra come il vero nemico sono gli Stati Uniti. Assolutamente sia per come l'hai appena detto cioè perché alla diciamo all'origine di questa guerra che è quasi appunto una una guerra proxy eh che viene condotta in campo teatro ucraino ma che deriva da uno scontro molto più ampio che è quello degli Stati Uniti e con gli Stati Uniti eh e poi c'è la dimensione molto importante per tutto il mondo per noi eh europei forse in primo luogo in questo momento ma per la Russia è esistenziale la dimensione della guerra economica cioè della guerra delle sanzioni eh un aspetto che viene molto eh sottolineato insomma da parte da parte Russia da parte russa è come la guerra del gas ancora non sia combattuta in modo diciamo attivo eh da parte russa ma che rimane un possibile fronte perché proprio in queste ore ad esempio viene viene comunicato che il i cosiddetti paesi ostili tra questi c'è anche l'Italia eh stanno avendo qualche facendo creando qualche problema con i pagamenti sappiamo che Mosca ha chiesto che i pagamenti delle forniture energetiche avvengano in rubli eh c'è un rifiuto formale da parte europea da parte occidentale è stato dato un meccanismo che può permettere a tutti di salvarsi la faccia ma evidentemente ci sono dei problemi. Un altro segnalo segnalo ovviamente per l'Italia la visita di Draghi ma anche del ministro degli esseri Di Maio gli accordi fatti con l'Algeria per aumentare l'importazione di gas dall'Algeria che sostituirà circa un terzo del di quello che noi insomma riceviamo dalla Russia quindi non riescerà a sostituire completamente le nostre importazioni ci sono ancora trattative in corso con l'Egitto e però probabilmente faremo anche una puntata ovviamente sull'Italia specifica però dicevi Oretta vorrei continuare. Qui tra l'altro questa diversificazione una un aspetto che viene sottolineato diciamo dal campo avverso russo è un aspetto che effettivamente esiste insomma non possiamo non possiamo certamente negarlo cioè che le nuove forniture che vengono prenotate in primo luogo dall'Italia c'è grande attenzione a quello che sta facendo l'Italia perché l'Italia si sta muovendo più velocemente e su più scacchiere alternativi a quello russo come fornitore viene sottolineato il fatto che questi paesi non sono dei campioni di stabilità no? L'Algeria l'Egitto o l'Angola il problema si pone vedremo. Un altro. Soprattutto anche a causa della guerra perché abbiamo come abbiamo detto la il probabilmente aumento dei prezzi delle materie prime anche soprattutto alimentari cereali ma anche fertilizzanti e così via provocheranno probabilmente in Africa anche in questi paesi potrebbero avere ripercussioni no? Sì potrebbero avere ripercussioni che i russi prevedono tra parentesi auspicano eh con conseguente reazione delle opinioni pubbliche europee anche appunto sul fronte occidentale ad esempio il fatto che eh il fatto che ci saranno probabilmente dei problemi in termini di fertilizzanti perché Russia e Bielorussia sono due grandissimi quasi eh quasi monopolistici esportatori di alcune componenti dei fertilizzanti ovvio crea dei problemi tra l'altro tra l'altro gli Stati Uniti ci hanno pensato un attimo e poi hanno tolto dalla lista delle sanzioni appunto i fertilizzanti perché non vogliono andare a colpire l'agricoltura l'agricoltura americana il problema invece si pone per quanto riguarda gli gli europei che hanno mantenuto queste componenti nella lista delle sanzioni insomma tutte queste dimensioni della guerra effettivamente cosa fanno? Ci proiettano su un orizzonte temporale necessariamente inevitabilmente lungo e quindi secondo te il 9 maggio no che è la festa patriottica il ricordo della seconda guerra mondiale la vittoria dell'Unione Sovietica ma anche soprattutto della Russia eh nella seconda guerra mondiale che era stata un po' presa no come un possibile occasione di se dove esse ovviamente la Russia conquistare il Donbass e quindi potersi accontentare in un certo qual modo e presentarla come quindi una vittoria secondo te potrebbe andare oltre anche questa data? Non è assolutamente da escludere non viene escluso anzi in tutto questo insomma tutto questo quadro che abbiamo descritto c'è proprio la consapevolezza che viene trasmessa all'opinione pubblica della possibilità che si arrivi appunto al giorno della vittoria sui nazisti che nel discorso russo ha ampi collegamenti no con questa con questa guerra in corso in Ucraina in una situazione di guerra ancora aperta nel Donbass in ogni caso di conflitto ancora aperto in senso più ampio anche se ci fosse un'accelerata un'accelerata militare nel Donbass e quella singola partita potesse essere dichiarata chiusa. Allora sono successe un po' di cose anche diciamo negli apparati no? Nel fronte interno. Allora andiamo per gradi. Allora prima un tuo commento sulle posizioni che si ha assumendo Medvede. Medvede. Ricordiamo che è stato l'ex presidente che insomma quando Putin si è dimesso perché aveva per basta la posizione russa non poteva andare oltre i due mandati ecco questo intervallo è stato preso dalla sua controfigura no? Quello presentato come la sua controfigura è il suo partner principale che ha fatto il presidente per quattro anni Putin il primo ministro ma di fatto era lui l'uomo forte no? E poi subito ha ceduto il passo ecco ha delle posizioni molto dure da facco secondo te eh sono le sue convinzioni o è anche un segnale che vuole dare che lui ha con Putin non è disponibile come dire essere un possibile. Diciamo ci sono tanti ci sono tanti segnali in questo quello più evidente forse è più per l'esterno che per l'interno della Russia nel senso che Dimitri Medvede quando andò nel duemila otto al Cremlino rappresentò la il volto possibilista nei confronti dell'accidente il dichiarato riformatore il leader su cui anche gli Stati Uniti o quantomeno all'epoca Barack Obama avevano aveva un po' puntato come interlocutore possibile fattibile era il leader del reset no? Poi sappiamo come è andato a finire sappiamo che Putin probabilmente dal Cremlino non se n'era mai andato certamente c'è tornato nel duemila e dodici con tutto quello che è conseguito dopo. Quindi il messaggio è Dimitri Medvedev ci dimostra con questo inasprimento delle sue non delle sue posizioni ma inasprimento pubblico delle posizioni russe che viene proprio espresso a Dimitri Medvedev segnala che questa è la conseguenza è la conseguenza dell'incapacità sempre dal punto di vista russo dell'occidente di trovare una di trovare una lingua comune con la Russia di trovare dei punti di compatibilità e di possibile convivenza poi c'è anche sempre come sempre avviene in Russia anche il discorso interno Medvedev oggi è il numero due del consiglio di sicurezza era stato messo un po' da parte a questo punto automaticamente si candida si candida ad essere una figura importante anche nel dopo guerra e anche nell'eventualità nell'eventualità che il dopo guerra dovesse portare ad una ad una messa in questione della della presidenza di Vladimir Putin. E lui lo ricordo è stato ha avuto una posizione assolutamente dura proprio sul invece il discorso di Svezia e Finlandia che stanno facendo dei passi avanti per l'ingresso della Nato alla Finlandia in particolare addirittura c'è un dossier presentato al Parlamento che potrebbe nelle prossime settimane prendere questa decisione ricordo ci sono state già delle esercitazioni militari di Svezia e Finlandia nonostante fossero neutrali insieme alla Nato e proprio su questo no è il tasso su cui ha battuto eh l'ex presidente russo perché ovviamente una Nato baltica e ricordo anche qui eh articoli e anche una carta sul volume di Limes a questo proposito è comunque un duro colpo per la Russia perché San Pietroburgo sarebbe accerchiata da alleati Nato. Certo il San Pietroburgo diciamo eh sarebbe una un esempio eh strategicamente strategicamente fallimentare insomma dell'eterogenesi dei dei fini perché decadrebbe il proprio il concetto di neutralità di neutralità eh come formula di coabitazione e di compromesso con la Russia perché la la neutralità della della Finlandia in particolare deriva proprio da una da un accordo da un trattato da una richiesta dell'Unione Sovietica nel 1948 dopo un insomma dopo un lungo passato complicato di vicinanza e di di vicinanza e di scontri tra Russia e Finlandia. Ecco da questa carta cosa vediamo? Vediamo quello che per la Russia sarebbe effettivamente un problema strategico enorme cioè la la faccio russo sul mal baltico verrebbe totalmente chiuso da da paesi nato con la giunta di Finlandia e Svezia e tra l'altro con una potenziale complicazione di cui qui in occidente parliamo poco in Russia invece se ne comincia a parlare cioè che Kaliningrad che vediamo nel cerchietto eh il territorio in arancione che è un un ex club l'ex club russa in ed è anche un avamposto iper militarizzato russo letteralmente incuneato adesso tra paesi dell'Unione europea quindi Lituania e Polonia si ritroverebbe chiusa anche dal dirimpettaio svedese ehm insomma se dovesse diventare la Svezia in tempi brevi membro della membro della Nato questo ovviamente complicherebbe moltissimo la dal punto di vista strategico la posizione di Kaliningrad e quindi della della Russia quella latitudine e avrebbe anche una simbologia ehm molto pesante per la federazione russa perché come dicevi tu insomma San Pietroburgo ex Leningrado è la città natale di Natia di Vladimir Putin ma soprattutto proprio nella nella memoria collettiva è la Leningrado che veniva sottoposta dai nazisti quindi dal nemico che oggi il nemico diventa questo occidente no in senso allargato veniva sottoposto al più duro assedio della seconda guerra mondiale insomma novecento giorni che hanno trasformato questa città in città martile e hanno cambiato completamente anche la percezione dell'Unione sovietica del popolo sovietico al al suo interno quindi insomma tra dimensione simbolica dimensione strategica effettivamente si prospetta un problema non di poco conto. Allora io rimosso un attimo la carta che è molto dettagliata e ricordo anche che ovviamente qui su YouTube avete potete avere una visione delle carte molto relativa quindi il consiglio è sempre quella di leggere di vedere sulla carta con attenzione o appunto sul sito internet per gli abbonati e qui vi possiamo offrire solo appunto uno scorcio ecco e però dove vedete bene appunto Kalinicrad qui la minaccia russa no? È stata quella di portare le armi nucleari proprio al ridosso del confine di questi paesi Nato dei Baltici ma secondo alcuni già ci sono armi soprattutto nucleari tattiche nella stessa Kaliningrad che ricordiamo è Kenisberg la città prussiana di Kant dove che probabilmente Stalin vuole proprio come trofeo no? La città prussiana e vuole inserire nella Russia e per questa ragione adesso si trova come sotto forma di esclave dopo appunto le indipendenze delle altre repubbliche però allora il tempo corre orietta io passerei subito ad altri arresti eccellenti o almeno presunti tali no? Si è parlato del presunto arresto perché è smentito dalla Russia ma insomma ci sarebbero un po' di di notizie al riguardo di Surkov che era considerato il la mente grigia no? Il Rasputin di Putin almeno negli ultimi anni tu che che c'è? Il Slavo Surkov è un personaggio molto particolare uscito di scena da qualche tempo ufficialmente ma Surkov non se ne va mai è un personaggio se vogliamo uno nessuno uno centomila e mai nessuno pirandelliano senza la dimensione del nessuno quindi sarebbe sarebbe lo dicono anche alcuni alcune fonti russe in genere parecchio affidabile agli arresti domiciliari per questioni di appropriazione indebite a corruzione legati alla campagna militare in in Ucraina nell'est dell'Ucraina alla alla crisi nel Donbass del 2014 questo chiaramente innalza il significato del del possibile del possibile arresto domiciliare di Surkov perché ci segnala che in in qualche modo innanzitutto quella campagna andò male andò male e dopo il 2014 una delle questioni che sono state spese diventate che sono anche diventate critiche nei confronti del Cremlino è proprio quello del perché la Russia si fermò alla Crimea e non decise invece di risolvere tutta la questione del sud-est ucraino in modo più risoluto e militare quindi sappiamo poco sappiamo che probabilmente uno del dei vari Surkov che si nascondono dietro questo personaggio davvero notevole l'ideologo della democrazia sovrana insomma alla metà degli anni 2000 colui che non ha avuto mai veramente delle funzioni ufficiali se non degli incarichi che riguardavano sempre l'ex Unione Sovietica ma che certamente è stato considerato da Putin e tenuto da Putin a bordo come uno dei cervelli dei cervelli più raffinati e anche più macchiavellici vedremo se ci saranno conferme e vedremo anche in termini di equilibri interni cosa questo vuol dire perché gli arresti eccellenti o meno ci dicono che ci sono poi delle anche delle lotte intestine inevitabili in tempo di guerra ancora più inevitabili appena la guerra finisce e quindi questo va tenuto d'occhio nello stesso nella stessa ottica forse ancora di maggiore rilievo è il è l'arresto anche questo non confermato ma lì le fonti sono davvero buone di Sergei Besieda che è il il capo di una divisione di una divisione dell'FSB quindi dell'intelligence dei servizi segreti del servizio di federale di sicurezza russo responsabile dell'intelligence in Ucraina in Ucraina quindi sospettabile di avere fornito delle informazioni insufficienti o sbagliate nel momento nella frase preparatoria della della guerra o addirittura di avere fallito nel preparare quella sponda ucraina che avrebbe dovuto o potuto permettere ai russi di entrare a Kiev senza camneficine ma con diciamo delle prospettive politiche quello che va eh notato scusate scusate di interruppo perché nel frattempo in in Ucraina è stato arrestato Medivenciuk che era considerato l'origarca filo russo che poteva essere come dire la persona che Putin avrebbe messo a potere nel caso la prima offensiva fosse andata a buon fine e avesse subito preso Kiev quindi sia Surkov che il capo dell'FSB ucraino potrebbe essere considerati secondo te responsabili dell'appunto del fallimento della prima fase della guerra russa perché si è parato anche invece di accuse di corruzione che avrebbe in particolare Surkov preso dei soldi che erano destinati appunto alla guerra in Ucraina ma è quello insomma sì diciamo Surkov è più una questione del di fare i conti con un passato 2014 che non è andato bene e che oggi torna torna come eh diciamo aggiunta le difficoltà odierne Medivenciuk magnate oligarca milionario ucraino molto vicino a Putin insomma si dice che Putin sia il il padrino di di sua figlia e soprattutto capofila di quella opposizione di quella galassia di di partiti che prima della prima della guerra stavano in realtà crescendo in in potenza e in forza in Ucraina e che certamente davano molto fastidio a un Vladimir Zelensky che prima della guerra non godeva certamente del del sostegno o della popolarità di cui gode oggi quindi quella di Medivenciuk è certamente una resa dei conti interna che viene fatta nel momento in cui la guerra rende tutto un po' più facile per Zelensky perché chiaramente chiaramente non gli verranno fatte le pulci che sarebbero state fatte insomma in tempo di pace di fronte all'arresto fondamentalmente di un politico se Medivenciuk possa essere stato l'uomo direttamente proprio lui personalmente di Putin a Kiev io ho qualche dubbio certamente è una figura che avrebbe facilitato aperto ponti per per i russi in Ucraina questo non c'è dubbio allora io Orietta insomma come abbiamo detto temo che ci risentiremo in altre puntate per seguire appunto questa guerra che non sembra avere un termine breve ricordiamo che però certo la speranza è che il come dire l'eventuale conquista di Mariupol possa essere appunto per la Russia quel successo in grado di presentare la guerra come vittoria forse no far procedere a negoziati accordi almeno per un cessato il fuoco tu credi a questa ipotesi Orietta che ne pensi? ma io penso che al momento stiamo vedendo una sostanziale involontà o incapacità le due cose messe assieme comunque determinano determinano la stasi totale di andare ad una fase negoziale i russi hanno bisogno di una vittoria quantomeno limitata nella partita da cui poi potere poter andare ad un negoziato con qualcosa in mano da far pesare dall'altra parte gli ucraini e sopra gli Stati Uniti non hanno completamente completamente tolto diciamo dal dal loro discorso il possibile negoziato l'impressione è mia impressione barra speranza che effettivamente una volta chiusa la partita nel Donbass sempre che la Russia riesca a chiudere come come intende insomma fondamentalmente con una presa regionale abbastanza consolidata a quel punto si possa andare ad un negoziato ma non sarà un negoziato facile e sinceramente non credo che sarà un negoziato che possa poi far parlare di pace mi trego a sì la pace temo sia ancora un parecchio lontana allora torneremo sicuramente a parlarne quindi Orietta io ti ringrazio invito tutti a iscrivervi al canale e se vi è piaciuto ovviamente questa trasmissione oltre che ovviamente seguire sul sito e anche appunto la rivista in edicola e libreria quindi Orietta grazie ancora e alla prossima grazie a voi ciao a tutti grazie